Esercizi per migliorare l'acuità visiva. I problemi alla vista stanno aumentando significativamente negli ultimi decenni e anche se molti lo ignorano, dipende anche dall'uso eccessivo di dispositivi elettronici. In molti casi, questi problemi sono la conseguenza di fattori genetici ed ambientali e sono sempre di più i pazienti che sviluppano patologie agli occhi a causa della continua esposizione alla luce degli schermi. L'aspetto più preoccupante è che, nonostante le avvertenze, molte persone continuano ad usare smartphone e computer senza adottare misure preventive, trascurando o minimizzandone gli effetti negativi. Anche se le conseguenze non si manifestano subito, con il passare del tempo ci si ritrova in una situazione di stress visivo e difficoltà nel vedere chiaramente. Per questo motivo, è importante avere più cura della salute degli occhi, adottando sane abitudini che li mantengano forti e sani. Tra questi ci sono semplici esercizi che, se svolti tutti i giorni, rilassano la vista e la rafforzano, migliorando l'acuità visiva. Scopriamoli insieme. Esercizi per migliorare l'acuità visiva 1. Esercizio di rilassamento Questo semplice esercizio di rilassamento è perfetto per far riposare gli occhi dopo una lunga giornata di lavoro davanti al computer. Aiuta a calmare lo stress visivo e a migliorare l'acuità visiva riducendo la sensibilità alla luce. Come si fa? Allontanatevi da qualsiasi schermo e andate in un luogo tranquillo. Sfregate i palmi delle mani pulite fino a percepire una sensazione di calore. Poi, chiudete gli occhi e copriteli con le mani calde, senza fare pressione. Assicuratevi che il naso rimanga libero per respirare e che le dita siano ben unite in modo da non far passare la luce. Immaginate un buio profondo e sforzatevi di rilassare gli occhi mentre respirate lentamente. Mantenete questa posizione per due o tre minuti e poi aprite gli occhi. 2. Aprire e chiudere forte gli occhi. Aprire e chiudere gli occhi è un'attività interessante per rilassare la vista e ridurre gli effetti delle luce degli schermi dei dispositivi elettronici. Può sembrare un esercizio semplice, ma aiuta a rilassare gli occhi, ad aumentare la lubrificazione naturale e a prevenire l'arrossamento. Come si fa? Chiudete forti gli occhi per 5 secondi e poi apriteli il più possibile per altri 3 o 5 secondi. Ripetete l'esercizio da 10 a 12 volte di seguito. 3. Esercizio con i polpastrelli delle dita. Un semplice esercizio di rilassamento con i polpastrelli delle dita può aiutare ad aumentare l'umidità naturale degli occhi e ad evitare la secchezza oculare causata dall'uso di dispositivi elettronici. Come si fa? Andate in un posto tranquillo, non troppo illuminato, chiudete gli occhi e massaggiateli leggermente con i polpastrelli delle dita. Esercitate una leggera pressione sulle palpebre superiori e fate dei movimenti circolari per 8 o 10 secondi. Ripetete l'esercizio 8 volte e poi riposate. 4. Movimenti circolari. I movimenti circolari degli occhi sono un ottimo esercizio per rafforzare la vista, può aiutare a prevenire il deterioramento della cornea e la degenerazione maculare. Questo esercizio riduce lo stress causato dalla stanchezza e aumenta l'idratazione oculare e la circolazione. Come si fa? Muovete gli occhi in maniera circolare in senso orario. Ripetete il movimento 21 volte, riposate 30 secondi e poi ricominciate, questa volta in senso antiorario. 5. Esercizio di concentrazione. Gli esercizi di concentrazione sono ottimi per aumentare l'acuità visiva e contrastare la visione offuscata. In questo caso, useremo una matita, ma si possono usare molti altri oggetti. Come si fa? Prendete una matita con una mano e allungate il braccio in avanti il più possibile. Muovete lentamente la mano, avvicinando la matita verso il naso senza smettere di guardarla. Muovetela di lato in avanti e continuate a mantenere lo sguardo fisso su di essa. Ripetete l'esercizio da 10 a 20 volte. 6. Scrittura immaginaria. La scrittura immaginaria è un'attività di potenziamento visivo che contribuisce ad evitare il deterioramento oculare prematuro. Come si fa? Mettetevi in piedi di fronte ad una parete, preferibilmente bianca, e fate finta di scrivere con gli occhi, senza muovere la testa. Più grandi sono le lettere che riuscire a scrivere, più rafforzerete la vista. Riposate 20 secondi e ripetete 5 volte l'esercizio. In conclusione, bastano pochi minuti al giorno per migliorare la salute degli occhi e rafforzare l'acuità visiva in modo naturale ed efficace. Mettete in pratica questi esercizi una volta al giorno e scoprirete che sono davvero un'ottima opzione per rilassare gli occhi quando cominciano a sentirsi stanchi.